Per la prima volta da quando ci siamo, da quando siamo tornati in Serie A siamo primi da soli, è stata una bellissima partita, molto bravi all'inizio a fare il break, poi abbiamo subito loro dentro qualche rimbalzo lasciato lì colpevolmente, siamo andati molto bene secondo me all'inizio del terzo quarto, non ripresi perché eravamo solo sotto i due, ma comunque abbiamo messo la testa avanti, poi abbiamo gestito con qualche patema, abbiamo gestito abbastanza bene, con liberi, ottima percentuale, liberi alla fine. Ottimo inserimento di tutto il roster, veramente i nuovi banchi, come dicevamo prima, hanno avuto a piene mani fiducia dal roster che hai costruito, e come ti aspettavi questa squadra? Me l'aspetto, anzi non me l'aspetto, sono sicuro che è un'ottima squadra, sono tutti ottimi giocatori, ma è ancora presto per essere troppo contenti, sono l'inizio, due bellissime vittorie, ma io ho tanta fiducia in questa squadra, sono sicuro che andremo avanti bene. Alla prossima Sì, sicuramente, la città è un'ottima squadra, mi sapevo che venivano in supporto e aiutano a guidare per una vincontrazione, spero di avere i più vincontrazione che abbiamo avuto nella storia, è quello che ho fatto nel passato, e so che questa città è un'ottima attraverso l'energia. realtà. Mi sento a casa, mi sento a casa a Torino e ho tantissima voglia di vincere ogni partita, come abbiamo tutti noi in questa società, quindi guardate, sono a casa.